Oggi l'indice della paura e dell'entusiasmo sui mercati cripto ha toccato un nuovo picco minimo annuale. Guardate qua, il dato relativo all'indice della paura e dell'entusiasmo di oggi è 10, ovvero estrema paura. Ricordatevi che 0 è massima paura e 100 è massimo entusiasmo. Se andiamo a prendere il grafico a un anno, scopriamo che siamo qua, quindi a 10, la quota più bassa dell'anno che era stata raggiunta solamente il 30 maggio e il 24 maggio. Ricordatevi però che questo dato si riferisce alla situazione dei mercati di ieri, cioè la situazione di oggi la avremo con il dato di domani. Quindi in questo momento sui mercati cripto il livello di paura è ai massimi del 2021, ma come già è capitato altre due volte di recente. Se però andiamo a prendere il grafico un po' più indietro nel tempo, scopriamo che già altre volte in passato era stato a questi livelli, addirittura ad agosto del 2019 era arrivato a 5, quindi questo non è il record storico. E comunque ogni qualvolta in passato è sceso così in basso, poi dopo è risalito e è accaduto anche a marzo del 2020 quando toccò ci quota 8, quando ci fu il crollo di tutti i mercati finanziari e poi dopo ritornò in quota, attorno alla zona neutra diciamo tra 40 e 60. Infatti dovete sapere che sta circolando un grafico secondo il quale il prezzo in particolare di bitcoin potrebbe scendere ancora un pochino e poi iniziare sostanzialmente da subito a risalire. Si tratta del cosiddetto metodo Wyckoff, io vi metto in allegato questa pagina di Binance Academy in cui vi spiega che cos'è il metodo Wyckoff e in particolare si tratterebbe del cosiddetto schema di accumulo, eccolo qua. Questo è il grafico dello schema di accumulo del metodo Wyckoff. Se noi lo confrontiamo al prezzo di bitcoin diciamo dell'ultimo mese circa, a partire dai primi di maggio, un mese e mezzo, scopriamo che ci sono delle similitudini. In realtà questo grafico, che è quello del prezzo di bitcoin, non corrisponde perfettamente a questo ma ci sono delle cose in comune. Facciamo così, partiamo dal grafico del prezzo di bitcoin, io l'ho preso a partire dall'8 maggio fino a oggi e tracciamo delle linee di tendenza. La prima parte qua e finisce con questo picco minimo toccato il 19 di maggio. Poi ci fu un piccolo rimbalzo che riportò il prezzo un po' più in alto, vedete? Ma poi ci fu una seconda ricaduta che lo riportò più o meno dove era il 19 di maggio. Poi ci fu una terza risalita un po' meno rapida, scusate, una seconda risalita un po' meno rapida della prima. Poi ci fu una lunga discesa più o meno, cioè qua ci fu un po' di sali e scendi ma ci fu una lunga discesa fino all'8 giugno. Poi c'è stata una terza risalita un po' più lenta rispetto alle prime due e una quarta discesa che è quella che ha portato il prezzo a dove sta oggi. Vedete, questo andamento può sembrare simile a questo. Qua c'è stata una prima discesa, una prima piccola risalita con una ridiscesa più o meno allo stesso punto ed una seconda risalita un pochettino più lenta. Poi da qua le cose si sono fatte un po' diverse perché qua c'è una discesa con due picchi negativi mentre invece per Bitcoin il picco negativo poi è stato uno solo. Sì, ci sarebbe questo qua ma io non lo considererei, secondo me questa è un'unica discesa. Poi c'è stata una risalita che però nel caso di Bitcoin è stata un po' più lenta decisamente e poi una discesa in cui però questo ultimo grosso spike sembra che non ci sia ancora stato, stia ancora scendendo. Io ho fatto un po' di calcoli, a me verrebbe fuori che questo punto chiamato Spring se noi applicassimo questo modello a questo prezzo di Bitcoin a questo punto starebbe un po' sotto i 30.000 dollari, diciamo tra 28.000 e 29.000 dollari. Quindi se il trend di Bitcoin continuasse a seguire a grandi linee questo grafico allora noi potremmo aspettarci a breve una discesa attorno ai 28-29.000 dollari adesso siamo a 31.000 quindi non è che siamo poi molto distanti per poi rimbalzare nei prossimi giorni e forse superare anche i due tetti massimi di questo periodo toccato in precedenza, questo corrisponde a quota 41.000 dollari facendo i conti per poter poi risalire ulteriormente probabilmente a luglio. Ora io non so dirvi se il prezzo di Bitcoin veramente seguirà questo schema Wikoff anche perché come avete visto il trend attuale del prezzo di Bitcoin non è esattamente come quello schema è simile per certi versi e quindi potrebbe seguirlo e quindi nei prossimi giorni scendere ancora un po' poi risalire sopra i 41.000 dollari ma potrebbe anche non farlo. Io ovviamente vi terro aggiornati su questi movimenti se poi volete invece seguirli praticamente appena avvengono vi consiglio di iscrivervi al mio gruppo Facebook Bitcoin Italia aperto e senza scam di cui vi metto il link in descrizione perché li commentiamo questi movimenti praticamente in tempo reale. Un saluto, ciao!